Salve, sono Khatuna Tatociwili e vorrei presentarvi un'azienda Skyward Community. Allora, io sono Khatuna Tatociwili con le qualifiche del mio store, leader della società Skyward Community. Sono mamma di bambini e di cui due sono studenti e abbastanza affermati, che è mia figlia in quest'anno si laurea, che è una grande gioia, ma non mi grata. Sono immigrata da tre anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Ho avuto esperienza, ho esperienza di lavoro in strutture statali, quindi ho avuto esperienza nella comunicazione, nelle relazioni di ambito medico ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. E anche sono uno specialista certificato di lingua italiana, livello A2, e ho lavorato anche in corsi di mediatore, durare e sociale, mediatore europeo. Avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community Skyward, che si è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Germania, Spagna, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team, in soli due anni, sono stati investiti oltre 30.000 dollari e tutto è successo grazie alla comunicazione online. E allo stesso test tempo del suo sviluppo, in questa fase, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste è altamente pagate, in cui il mio team è attivamente coinvolto. Puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente nulla, c'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora ti presentiamo Skyward Community, opportunità di offerte commerciali. E allora, il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Amitoli Unitsky, con una storia di sviluppo 45 anni già. La proprietà, in particolare del suo progetto, è stimato in 400 miliardi di dollari. Ed è dopo 45 anni di sviluppo, che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte del mercato. Lo stesso signor Amitoli Unitsky ha già 75 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realizzerà nel corso della sua vita, però per ora già è visibile tutti i progetti già realizzati. E lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. Abbiamo quel tipo di trasporto già? Oggi il sviluppo tecnologico già è disponibile per tutta l'umanità. E vi presento questa macchina intelligente. Allora, Skyward è il trasporto che si muove solitari ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyward di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su supporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. Pagini videici e foreste rimangono idratte. Il trasporto Skyway è controllato da un'autopilota ciò riduce il numero di potenziali incidenti. E l'aerodinamica del trasporto Sky con 7D raggiunge velocità fino a 500 km in un'ora. E anche la costruzione della struttura linea Sky richiede meno dell'aerodinamica rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. E allora, quindi quando devi costruire la struttura di costruzione Skyway devi consumare 20-25 milioni o più lunghe perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare i paesaggi per stare a acqua e rompere le rocce. Per costruire questa strada sono necessari i soliti supporti con un binario tifone per viaggiare su Sky Transport e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. Esistono due tipi di passacorte ridici, semiridici ed elastici ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario. e allora c'è anche un stabilimento un centro di innovazione di produzione un centro di innovazione Sharjah e Minsk dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia. Come sappiamo quando un auto accelererà ad alta velocità deve fare i conti con l'escluso d'aria in arrivo si chiama resistenza aerodinamica il nostro Sky Transport è mille volte più facile da gestire e grazie allo scaffo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 km tu potresti chiedermi ma perché non usiamo l'auto ibrida ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale erettrica che funziona di nuovo a carbone o in un'altra materia e prima e quindi crea danni alla cultura crea danni alla natura allora noi stiamo partecipando in questo progetto per cui vogliamo solo portare il destino del nostro pianeta i costi operativi sono 20-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente e produzione di energia è al minimo perché c'è l'energia più che sufficiente e non dipende dalla centrale la struttura Linea Sky ci offre molte opportunità per migliorare tutti i servizi e quotidiani e accelerare la disponibilità per tutti i servizi che ci servono per tutta l'umanità in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza più rapidamente e ottenere gli interventi chirurgici urgenti in tempo e con un rapido trasferimento alla clinica necessaria sappiamo che le strade sono congestionate da auto con la loro emissione e possono causare inquinamento e molte malattie purtroppo ci sono anche i paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza la causa in molti incidenti e anche negli anni 70 già esistevano i problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 signor Annatori Bunetsky ha scienziato inventore proteggista di navi volanti e ha presentato il suo primo articolo scientifico dopo 5 anni di ricerca sull'atmosfera e lui ha visto l'esultato che in 5 anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste e abbiamo passato un periodo pesantissimo e la circolazione ha causato il decennio dei cenni problemi strada sopruvolata mancanza sicurezza e dispendio di energia colossale per i propri interessi e i propri obiettivi di umanità abbiamo danneggiato la natura e i paesaggi stiamo potendo foreste prosciugando fiumi e macchine idrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri naturali e questo è il motivo per cui in Sky Transport il trasporto necessario è più richiesto nella storia dell'esistenza umana e speriamo che tutti i progetti e tutti i paesi si realizzeranno velocemente e la nostra vita e la nostra salute migliorerà e avremo un'altra vita molto diversa che oggi c'è anche un sito unitski.ing.er dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi certificati che riflette 45 anni di lavoro del signor Anatole Oneschi in quale ha dedicato la maggior parte della sua vita e del suo lavoro è un libro che ogni partner della società Skyward Community è in una posizione redditizia quindi qui è possibile firmare un successore e anche ricevere e entrare in risultati dal programma di partnership di cui parleremo in un incontro specializzato per gli interessati il vantaggio e il pagino fascino nella nostra azienda sta nel fatto che è una forte unione di persone con obiettivi e valori comuni e le rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che è già diventato un processo irreversibile di cui parlano i progetti già realizzati pianificati e firmati e ogni partner abbiamo il nostro profitto e allora quando finisci dopo completamento verificarsi la tua pagina allora ti apre tutte le possibili di Skyway che ti offre allora puoi trovare i diritti sulla tua pagina trovare bene tutto anche tutte le offerte e decidere cosa scegli e quindi il nostro profitto è mirate ai dividenti guadagno del programma di partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo proprietari di tecnologie partecipiamo in un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passiamo alla storia come prima troppo e creiamo capitali per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai e anche attestato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite e quello che è importante per tutti noi è il valore nominale del nostro acquisto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e allora personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto prima per le mie azioni quando ho comprato 120.000 dollari e da soli 1.000 dollari cosa che non avrei potuto fare in una vita reale cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è per me che l'azienda Skyward Community è diventata il senso e il supporto della mia vita e allora la cosa è più importante è importante che ci sia un prodotto reale e che puoi visitare tocare e sentire la sua velocità e condita per te stesso e non ha bisogno di essere pregonato a nessuna altra azienda questo è un unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti l'Ecotrano Park è stato realizzato ed è operativo in Pilarussia nella città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti in particolare nella città di Chaja nel centro di innovazione intorno all'università americana dove è già possibile visitarli allora all'università americana di l'Imi di Arabi c'è una linea di prova del nostro esporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni e un visitatore può sperimentare in conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto a linea string del futuro e personalmente per me e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner e arrivato il tempo da dove prendiamo esattamente i nostri benefici e allora il 32% della nostra quota del valore delle tecnologie viene messo in identità sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e non diventare proprietari di tecnologie innovative e sulla nostra pagina sempre ci sono offerte specializzate per persone di qualsiasi classe sociale e possiamo avere anche per i nostri figli per i nipoti per i studenti per i nostri familiari e lasciare le libertà per loro o anche se qualcuno farà bene le loro libertà per questo rispondibile allora la società è stata registrata in Inghilteria come società europea nel 2014 Pertanto i diritti del single co-partner sono iscritti e tutelati dalla normativa europea inoltre l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'intervizio indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state servise in 15 fasi ad oggi abbiamo già finito completato la 14 fase e stiamo alla 15 fase l'anno scorso 2022 è finito allora la 14 fase e in 2023 in 20 maggio abbiamo cominciato la 14 fase e dopo che stiamo partecipando sul mercato commerciale allora i azionari partono da 50 dollari arrivano fino a 150 mila dollari a seconda interesse degli azionisti un rappresentante di qualsiasi classe come vi ho detto può investire è possibile usufruire internet al suo zero sul pacchetto azionario e ci offre molte opportunità che è possibile trovare sulla vostra pagina e non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito il tuo limitato il link di registrazione o fissa un incontro per tutte risposte più specifiche che nella direzione che ti interessa e dopo il completamento in dicesima fase si sta costando sul mercato mondiale e stiamo avvicinando alla migliorazione dei dividendi già l'anno scorso la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato di tecnologia delle stringhe o lindeschi e allora il trasporto il trasporto cosa possiamo dire il trasporto esiste davvero e che si adatta a tutte le condizioni umanità climatiche scusate le condizioni per l'umanità sono molto interessanti e comodissimi e questo trasporto il suo corpo e resistenze alle raffinazioni converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità ciò che è importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unire a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti cambiare la tua vita è meglio e la sua comodità di questi progetti si cresce sta migliorando e lo stiamo spostando in altra era dell'umano già dove la meccanizzazione è sviluppato molto sviluppato e la nostra vita non sarà come era prima e come oggi e anche l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea ricordiamo di tutti i diritti del proprietario questo è in grande confronto per noi il produttore e creatore il signorato Iuneschi presenta la relazione annuale del pavolo svolto e la nostra azienda ha a disposizione anche del denaro se decidi improvvisamente di lasciare azienda ti offre di aggiungere più 4% a determinare condizioni restituire i tuoi soldi come vuotari restituire i tuoi soldi come vuotari allora e tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta questo precedente vero non è stato finora rilevato questa macchina c'è una cosa intelligente materiali ecologicamente puliti automatizzati e totati di energia solare questo progetto ha soddisfatto tutte le aspettative del signore Antonio Ioneschi che ha avuto l'idea di costruire città lineari dove servirà il risporto Sky e mia stringa e i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno sempre rilevati questa è la nostra salute e sopravvivenza come la macchina mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto quanto è pulita l'atmosfera e noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo e adatto alla città e sicuro facilmente integrabile e soprattutto ecologico e per cui signore Antonio Ioneschi conosco come un inciner del mondo nuovo e questo progetto oggi è organizzato e l'atmosfera quanto è pulita si vede semplicemente e allora il trasporto funziona tramite panelli solari e anche il suo porto può convertire l'energia in solare l'atricità lavorando praticamente senza sosta i termini del trasporto si sceglie può trasportare in un numero molto maggiore in 24 ore rispetto ad altri trasporti già esistenti i termini di cui ho detto siamo a zero sostanze nocive non esistono e quindi ne sondano per la natura neanche non è i termini incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto marittimo teresa aereo e tutti i tre di trasporto causano danni dalla natura e allora il trasporto ad alta velocità può raggiungere velocità 500 km e con la sua capacità che sono entrate 4 persone e la produttività fino a 500 passaggeri al giorno può trasportire e un'impostura che può raggiungere la città a 150 km allora con la sua produttività può spostare 50.000 passeggeri al giorno anche anche unicard può raggiungere la città a 150 km possono entrare 6 fine 8 persone e con la sua produttività può spostare fino a 50.000 passeggeri al giorno abbiamo anche i merci che passano su pure le strade e non causano più traffico e tutti i servizi saranno più accelerati disponibili e le case costruiscono più presto in tempo e tutti i servizi potranno migliorare l'anno sicuro l'unibus monolotaglia ancora la città a 150 km possono entrare da 3 quindi 4 persone e con la sua produttività pure questo trasporto può spostare 50.000 passeggeri al giorno e non vi possono ricordare i nostri profitti che abbiamo quindi non tutti le aziende hanno offerte così interessanti e utili per tutti e per tutta l'umanità non solo che di un proprietario lo sta facendo una cosa globale e partecipa in una storia e vi dico sicuro tutti i nostri profitti allora vi ricorderò i reati dividenti che stiamo aspettando tutti noi guadagniamo dal programma di partner l'eredità rietano a disposizione sulla restituzione del denaro diventiamo proprietari di tecnologie e partecipiamo a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il destino il nostro pianeta ma passiamo alla storia come fino a troppo e creiamo capitale per una vita spensierata abbiamo la possibilità di viaggiare nel mondo non solo per aggiungere il topai attestiamo di formazioni specialità impegnative e altamente retribuite e quello che è importante per tutti noi il valore nominale del nostro acrixto è direttamente proporzionale al numero delle nostre azioni e vi prego gentilmente di aiutarmi a realizzare questo progetto in Italia per creare condizioni più favorevoli in direzione del turismo la pandemia del Covid-19 ci ha mostrato la necessità di un trasporto ecologico che risparmia per noi per il nostro pianeta quando immagino che passo sopra di Napoli per esempio e sopra tutta l'Italia con questo trasporto io vedo tutta la bellezza di questo paese mi innamoro mi innamoro di più voglio bene tutta la vostra gente vostra cultura io sono orgogliosa che ho conosciuto molte solo molte gravi persone in Italia che ho trovato toccato da loro e mi sono innamorata in questa lingua e con la mia capacità in pochi anni capisco di più che aspettavo e mi fa piacere fare qualcosa utile per questo paese anche io sogno di realizzare questo progetto nel mio paese quella in Georgia e questo progetto è molto molto utile e necessario per tutta l'umanità e sperando del vostro sostenimento vi opro registrarsi in questa azienda e aiutarvi a realizzare in Italia come è possibile presto per avere la possibilità di viaggiare dappertutto e vi consiglio e sostengo la tecnologia SkyWay sperando un futuro migliore quindi questo progetto ci prospetta vita lunga e salute e per farsi ciò che adatta bisogna del vostro conoscimento e di quante più iscrizioni possibili allora per sostenere questo progetto allora implementando questo progetto possiamo migliorare molte aree di servizio e muoverci molto più velocemente portiamo con noi i dividendi e viaggiamo in Italia in qualsiasi paese sognato allora stiamo per finire e vorrei completare la presentazione di oggi vi saluto alla prossima ispirando del vostro aiuto penso che e credo che pensate bene e collegatemi per favore per aiutarvi per registrazione verificazione e diventare una persona che crea un'altra vera della storia dell'umanità di umano allora questa è la società di un'espirazione tecnologica con le sue opportunità mi sono stato attratto dalla quantità degli investori di questa società grazie per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione Grazie a tutti.